io no agnone dove cazzo ci troviamo ci troviamo ci troviamo ci troviamo che parliamo pescarese così è capitolo te così che classe dai e c'è la tonina non ti vedi però c'è il sole aspetta ah erano i miei premi chi è che ha indovinato dove siamo? basta a metterla con calzellina che fa la processione stiamo a migliorare un po' l'avete visto la macchina fotografica questa bottiglia è mia e mi non mi prende di profilo vatti ciao fatto? no no ma la ci sta l'altro chi c'è arriva la? chi c'è arriva la? ah tu hai messato qua io vedo pure quell'altro castello se la fai rosa un saluto a tutti i nostri amici vieni qui vieni qui